buongiorno a tutti sono massimiliano rillo di coinact e vi parlerò di cyber insurtech ovvero di un nuovo settore che mette insieme gli aspetti di cyber security con il mondo assicurativo e di insurtech in particolare partiamo dal dire cos'è la cyber insurance cosa sono le assicurazioni per il rischio cyber fondamentalmente si tratta di polize che coprono in caso di attacchi informatici e coprono le spese che le aziende si trovano ad affrontare tutta una serie di danni causati dagli attacchi informatici è importante dire che questo mercato è in grande crescita cresce tantissimo in europa quasi il 40 per cento anno su anno ma lo stesso accade a livello internazionale quindi un mercato molto importante e interessante per le compagnie assicurative c'è però un problema al contempo crescono in maniera molto importante gli attacchi informatici ed i costi di questi attacchi in questo contesto diciamo che la l'interesse da parte delle piccole e medie imprese è molto alto tant'è che appunto queste sono le aziende che maggiormente sono stanno chiedendo coperture da rischio cyber che si aspetta nei prossimi anni saranno quelle maggiormente interessate avrete sentito parlare degli attacchi ransomware gli attacchi ransomware rappresentano in questo momento la prima causa di sinistri ransomware è una tipologia di attacco che cifra i dati computer delle vittime e chiede un riscatto per poter avere indietro i dati si stima che l'85 per cento di tutti i sinistri siano causati da attacchi ransomware ancora gli impatti sulle piccole e medie imprese sono sono molto alti se avete curiosità potete scaricare dal nostro sito web un report specifico che approfondisce questo questo particolare tipo di attacchi vedete che è un problema internazionale che colpisce in tutti i continenti e che sta diventando sempre più rilevanti in europa in particolare sempre in europa le nazioni più colpite sono inghilterra germania ma italia conserva una buona terza posizione con un numero importante di di attacchi diciamo su tutta su tutto il territorio nazionale ancora interessante notare che questa tipologia di attacchi sta colpendo le piccole e medie imprese come dicevamo quindi il 70 per cento di tutti questi attacchi si ferisco si riferiscono colpiscono medie imprese sostanzialmente quindi cosa sta accadendo sostanzialmente il mercato cyber è un mercato estremamente interessante per le compagnie assicurative ma al contempo un mercato molto difficile complesso e con sinistri sempre più importanti e quindi fondamentalmente c'è una sfida di coprire questo questo nuovo rischio ma al contempo per le compagnie assicurative di mantenere un portafoglio profittevole di clienti allora quello che noi crediamo ed è quello che un po sta accadendo a livello internazionale che mettere insieme le tecnologie per la mitigazione del rischio con i prodotti assicurativi sia la scelta giusta e la scelta vincente di conseguenza per andare più in dettaglio crediamo che le compagnie assicurative debbano coprire questi aspetti che qui sono sono riassunti ovvero devono riuscire a valutare il rischio cyber dei propri prospect e clienti in fase iniziale con degli strumenti tecnici sofisticati devono riuscire a mitigare praticamente questo rischio monitorandolo continuamente perché purtroppo rischio cyber è estremamente dinamico e devono riuscire ad intervenire qualora c'è un sinistro in maniera efficace e veloce per fare in modo che appunto il sinistro si si riduca in termini di impatto e sia meno costoso sia per il cliente che per la compagnia assicurativa stessa sulla base di questa vision coinet ha sviluppato una piattaforma software che noi definiamo cyber insurtech appunto perché offre diciamo sistemi di cyber security ma in modo specifico e verticale li propone al settore assicurativo la nostra piattaforma consente di valutare il rischio cyber di mitigarlo e di rispondere efficacemente in caso di in caso di sinistro è basata su dei dati proprietari di cyber intelligence che noi collezioniamo in particolare attacchi ransom ma anche dati di vario tipo relativi a vulnerabilità informatiche credenziali e sfiltrate e quant'altro e permette collezionando questi dati di avere una vista sempre aggiornata sul rischio dei clienti assicurati qui giusto per darvi una vista molto veloce di cosa è possibile fare con la nostra piattaforma è possibile avere informazioni dettagliate sugli attacchi ransomware dove si verificano quali sono stati i soggetti colpiti o dati aggregati che possono essere di grande interesse per le compagnie assicurative è possibile generare dei report molto dettagliati dall'esterno che consentono di identificare le esposizioni rischi tecnici dei clienti ma riusciamo anche grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale di scrivere a scrivere in maniera sintetica sia gli impatti di business potenziali sia le a spiegare di illustrare quali sono le misure che il cliente deve prendere per poter migliorare il proprio rischio e infine chiaramente diamo degli indicatori di rischio sempre aggiornati che consentono agli assicuratori di continuamente monitorare il proprio portafoglio di clienti assicurati quindi per concludere qual è il valore aggiunto che coinnet porta sia per gli assicuratori che per i clienti fondamentalmente la nostra tecnologia i nostri servizi sono costruiti per fare in modo che gli assicuratori possano costruire e mantenere un portafoglio di clienti assicurati profittevole abbassando evidentemente il numero di sinistri ma questo beneficio lo portiamo anche ai clienti che in collaborazione con le compagnie assicurative decidono di utilizzare i nostri servizi perché con le nostre soluzioni riduciamo la probabilità di rischio per il cliente stesso e quindi abbassiamo il rischio sia per il mondo assicurativo che per il cliente finale e in particolare ci rivolgiamo alle piccole e medie imprese grazie mille per l'invito e buona continuazione